Sono tornata Che cosa sta succedendo? Perché sono scomparsa per un anno? Perché su questo canale non c'è stato più nulla? Perché questo canale non è più il canale di prima? HA! Perché sono cambiate un sacco di cose Video Girl Sky ufficialmente non esiste più Non perché io e Nadia ci siamo uccise vicenevolmente o Nadia mi abbia ucciso ma semplicemente perché era tempo di un cambiamento Questo cambiamento è il cambiamento che è avvenuto nella mia vita Cosa è successo nell'ultimo anno? E perché questo canale non si chiama più Video Girl Sky? Perché dall'ultimo video in cui dichiaravo di essere felicissima in un nuovo team tante cose, tante cose belle e straordinarie sono cambiate ulteriormente le cose Dopo tantissimo tempo ho deciso di licenziarmi e finalmente perseguire quello che ho sempre pensato e voluto fare cioè mi sono messa in proprio ho fondato una società mia che purtroppo fiscalmente si chiama SRL ma in realtà è un collettivo Finalmente sono riuscita a mettere insieme tutto quello che ho sempre voluto fare cioè creare un collettivo di creativi e professionisti nel mondo digitale Bloom Monkey Studio non è un'agenzia non è un network non è una società non è un'agenzia di talent non è niente di tutto questo semplicemente siamo un collettivo di persone che hanno deciso di lavorare insieme su tanti progetti e tante cose differenti perché? perché io credo nei creativi perché per primo sono una creativa io stessa e ci sono tante cose che forse voi non sapete di me quindi è questa tipo la revelation all'Alna Montana la regia qua c'è no sì come tutti voi non sapete io sono un ninja sono sempre stata presente in tutta YouTube Italia anche se voi non lo sapevate è possibile che tutti questi horoscopisti non hanno un nome normale veramente cioè non scegliere contenta? ragazzi lui è Mirko il nuovo assunto del nostro team buongiorno 10 secondi di gente buono eh e dallo un altro sorso vai no bentornati su 10 lol mi sarebbero sfasciati durante la danza e tutto quanto vi è mai capitato di vivere una situazione nella quale una vostra decisione potrebbe condizionare la vostra vita? la prima cosa importante che è cambiata è che ho un team ufficialmente lavorano con me delle persone che mi aiutano a gestire tutto quello che Bloom Monkey Studio fa che non è solo fare video per YouTube ma è occuparsi di branding online di influence marketing di strategie digitali e di un sacco di altre cose ci sono tante persone che fanno parte di questa sorta di collettivo perché il mio sogno è sempre stato quello di creare una gigantesca factory in cui tutti quanti lavorano felici e contenti nonostante questo mondo sia cattivo violento e pessimo e tratta tutti noi creativi come l'ultima ruota del carro questo significa pagamenti che non arrivano questo significa dover fare 850 chiamate con i clienti e questo significa gestire tutto quanto da soli io non credo che una persona sia in grado di fare tutto questo da solo non credo neanche sfortunatamente alle agenzie ai network e a tutto quello che è collegato a questo per continuare questo discorso visto che ho già fatto abbastanza la scema usando gli occhiali li toglierò perché questo è il mio obiettivo di vita quindi mi guarderete in faccia negli occhi perché così capite che non mento quello che volevo dire non è che non credo in quello che fanno le agenzie quello che fanno i network quello che fanno agenzie di talent management e tutto quanto semplicemente non è quello che io volevo fare nella mia vita ma io credo che fisicamente il modo migliore per lavorare come creativi è lavorare sempre in team nell'ultimo anno ho assunto delle persone più o meno potete dire che sì va bene ho dei collaboratori che vengono ampliamente retribuiti come un regista quando fa un film ha bisogno di 50.000 figure ognuno di noi che fa il libero professionista che fa il creativo e magari è super bravo e specifico nel fare una cosa in particolare ha diritto e diventa un professionista quando ha delle persone che lo supportano togliendogli delle parti che per lui sono noiose e faticose e difficili per questo quello che è successo nell'ultimo anno è stata quasi una magia non è stata pianificata ma tutte le persone che hanno lavorato sotto lo stesso team ma è sotto la stessa forma hanno lavorato insieme perché volevano farlo non abbiamo nessun contratto tra di noi queste cose tipo non dovrei dirle perché sembro poco professionale però è vero non ci sono specifiche se non necessarie ma abbiamo deciso di lavorare insieme perché ognuno di noi aveva un pezzettino che serviva a quell'altro per andare avanti e diventare fisicamente un professionista che cosa significa per me essere professionisti nel 2018 significa tante cose rispettare il tempo dei clienti e di se stesso crescere sempre di più non solo di numeri e di tante cose ma un creativo cresce imparando nuove cose nuove tecniche tutto questo può avvenire solo ed esclusivamente tramite il confronto il confronto con le persone che fanno o lo stesso lavoro oppure qualcosa di simile e grazie a tutto questo ci si migliora vicendevolmente mi stanno dicendo che sta facendo un partito politico molto bene votate Blumo anche i studio SRL quindi cos'è cambiato semplicemente io sono diventata me stessa ho lasciato l'azienda per cui lavoravo e ho rifiutato altre proposte perché fondamentalmente non riesco a stare in quella cosa ristretta e circoscritta dalle aziende primo perché a tutte le aziende questo è il mio pensiero ed è il motivo per cui io non ci sono mai stata bene richiedono delle regole estremamente rigide che io non so io ho sempre creduto in tante cose diverse rispetto all'aziendalismo la costruzione la costruzione alle regole sono sempre stata un ribelle facciamo anche il tatuaggio dei ribelli io ricordo che sono un full time multitasking ninja e credo fisicamente che per crescere per diventare un professionista bisogna fare tante 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 cose sono cambiato un sacco di altre cose anche in quest'anno è cambiata la luce dietro di me un secondo fa quando ho detto blue monkey studio anche un robot nuovo addosso forse due non so se nell'ultimo video c'era anche questo robot sono riuscita a avere il google pixel 2 non l'xl ci ho messo tipo una vita e mezza perché questo è il mio strumento di tecnologia google non mi sta pagando anzi non me lo volevo far comprare perché in italia il google pixel 2 non esiste doveva essere blu ma non ho fatto in tempo a prenderlo blu e quindi è bianco e quindi è una cosa bellissima cosa è cambiato sono cambiati i miei capelli forse è cambiata la mia responsabilità nei confronti del mondo è vero perché gestire un'azienda per quanto possa essere definita un collettivo richiede tante responsabilità soldi pagamenti rintracciare i clienti che non ti vogliono pagare gestire le persone che lavorano con te e non dirò mai per me perché io odio questa cosa dire che le persone lavorano per me su questo canale ricominceranno ad essere caricati dei video ma saranno un pochettino meno video girl sky di prima e saranno un po' più virginia in quanto blue monkey studio sono io cioè tutto quello che so tutta la mia volontà e voglia di aiutare i creativi perché l'ho sempre fatto e sempre lo farò la cosa più bella di tutte che non vi ho raccontato perché si chiama blue monkey studio tanto tempo fa in una galassia lontana 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 eravamo seduti in un che babbaro in bandanere che è il che babbaro preferito di richard htt io richard htt fra frog paolo cellammare di ilis e tutti quanti ci lamentavamo di quanto fosse faticoso il nostro lavoro io ero stufa ero stanca ero stressata mi sembrava di lavorare talmente tanto per non ottenere mai risultati perché non era il modo in cui volevo lavorare con le persone riccardo e francesca si lamentavano di quanto fosse faticoso gestire i clienti paolo si lamentava di quanto fosse annoiato e stufo di lavorare in rai ed ilis che ai tempi stava ancora iniziando la sua carriera ormai avviata da make up artist ilis mi manchi tantissimo mi manchi veramente un sacco perché ilis è stata una delle prime persone che mi ha aiutato in blue monkey studio come collaboratrice abbiamo avuto questa idea brillante di voler fondare una setta segreta questa setta segreta doveva avere un nome figo paolo stava girando un episodio stava scrivendo forse il film di quattro e frullato se non sbaglio oppure girando la seconda stagione non ricordo e si era fissato che voleva una cavolo di scimmia dentro nell'episodio io ai tempi ero ancora associate producer di quattro e frullato e lavoravo con l'ilis nella cercare di gestire tutte le belleità artistiche di paolo e trasformarle in delle realtà perché avere una scimmia dall'oggi al domani non è la cosa più semplice in più io ho sempre chiamato mia sorella scimmia e mio padre da quando sono piccola cioè la delicatezza mi ha sempre chiamato mi ha sempre chiamato la mia sorella Bertucce quindi il concetto di scimmia era già insito nella nostra vita ma tornando al fattore del perché blu una delle idee brillanti di Paolo era quello di voler inserire una scimmia blu all'interno di una puntata di cotto e frullato quindi abbiamo deciso che la setta visto che chiaramente non avremmo mai potuto usare una scimmia blu in una puntata di cotto e frullato scimmia blu sarebbe diventato il nome della nostra setta segreta che chiaramente non è mai esistita quindi questa è la storia di come è nato blu dovevo scegliere come nominare la mia società e la scelta era facile e sarebbe stato blu monkey studio tra l'altro c'è un altro blu monkey studio in Italia che è un'agenzia di publishing se volete contattarmi per denunciarmi sappiate che blu monkey studio srl è l'unica in Italia grazie se volete voi di blu monkey l'altra società che c'è in Italia contattarmi potete contattarmi utilizzando la casella email info chiocciola blu monkey studio punto tv che come vedete non è blu monkey ma è blu monkey studio punto tv tanto la mia fantastica collaboratrice vi risponderà vero Marti? assolutamente cosa succederà al canale? contemporaneamente questo video è uscito anche lo showreel di blu monkey studio che vi mostra tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso e andate a guardarlo assolutamente secondo a partire la settimana prossima usciranno tre video alla settimana in cui gli argomenti che verranno trattati sono fondamentalmente quelli di cui blu monkey si occupa tutto il mondo di youtube content strategy branding e tutte queste parole di cui sentite parlare nel fantastico mondo del marketing che però ci dobbiamo lavorare e vi aiuterò a comprendere un pochettino meglio quindi video girl sky segreto è stato fondamentalmente un esperimento o meglio è stato un test perché io volevo fare questa cosa e ho sempre voluto farla ma chiaramente visto che creare contenuti è un lavoro ed è faticoso sebbene per quanto lavorassi per altra società facevo 40 contenuti alla settimana giuro ed è tutto vero crearli mentre si lavora per altre aziende in cui il 90% del tuo lavoro è lavorare nelle aziende non è stato possibile continuare quindi questo sarà il canale di Blue Monkey Studio sarà qualcosa di più perché la mia azienda e le persone che lavorano con me sono tanto di più che soltanto questo ah giusto non ho detto qual è il mio obiettivo bisogna sempre fissarsi degli obiettivi alti quando si fanno le cose ed è il motivo per cui abbiamo messo questi vorrei che questo canale diventasse il mashup di Casey Neistat che tutti quanti voi conoscete dopo che youtube vi ha fatto vedere tutti i suoi video l'anno scorso ma tecnicamente esiste su youtube da 9 anni ed è un grandissimo poi John Green che io amo in maniera indescrivibile e papapapam Salvatore Aranzulla sei pronto a giocare con me con il SEO perché io sono pronta a combattere come un vero ninja e saluterò facendo come fa sempre Balini alla fine dei video visto che ho gli occhiali come Balini anche ci vediamo la settimana prossima tutte le settimane con dei nuovi contenuti come primo anche in studio ciao